Michel Panati a commentare questa vittoria, vittoria tutta grinta, cuore, rimediato alla brutta partita di domenica scorsa. Sì, dovevamo dare un segnale, l'abbiamo dato, non era facile perché comunque loro sono un'ottima squadra, ci hanno messo sotto, il campo non era nelle migliori condizioni, però come hai detto te abbiamo messo cuore, grinta e tutto quello che avevamo per portare a casa questi tre punti. Insomma un pergo che si adatta anche agli avversari, oggi ha cercato poco di giocarla da dietro, ha cercato più Bortolo, una scelta, un piano partita fatto così, la scelta dietata anche dal campo non particolarmente perfetto? Sì, siamo andati in campo, abbiamo iniziato con il nostro modo di giocare, poi dopo ci siamo adattati anche all'avversario, è riuscita una partita di scontri, di palle alte, abbiamo vinto i duelli e abbiamo portato a casa come ho detto prima i tre punti. Modena ha vinto, il duello continua? Ma sì, noi dobbiamo pensare a noi stessi in Modena, poi ci pensiamo quando arriverà da noi la penultima.